Dopo le lamentelle manifestate nelle ultime settimane dei residenti del quartiere di Marchitella a seguito dei cattivi odori che giungono dal depuratore biologico, Caltacqua interviene con una nota sottolineando che dal 28 aprile scorso sono state avviate una serie di misure specifiche anche con l'emissione di una quota di fango biologico prelevato dall'impianto di Mazzarino che ha già dato primi importanti risultati. Il gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta ribadisce inoltre che vengono eseguiti controlli sistematici del refluo in ingresso con la metodologia richiesta con esecuzione di campionatura eccezionale e l'avvio del campione ad un laboratorio accreditato per le analisi dei parametri richiesti dalla custodia giudiziaria dell'impianto. Il merito ai lavori in corso relativi all'adeguamento dell'impianto, dice Caltacqua, vengono effettuati a cura del Dipartimento regionale per l'energia e l'acqua. Ma la domanda è sempre la solita, perché questi cattivi odori? I residenti di Marchitella, così come hanno riferito giorni addietro anche ai nostri microfoni, sostengono che vi siano reflui non trattati che stanno finendo in mare attraverso il torrente Gattano. Caltacqua ribadisce che in questa fase il suo ruolo nelle dinamiche gestionali del depuratore biologico di Marchitella è di mero esecutore di disposizioni impartite dai custodi giudiziari, riferendo tra l'altro che la vicenda dei cattivi odori era limitata ai lavori di spostamento dei fanchi da una vasca all'altra. Per capirne meglio e per risolvere, ci auguriamo definitivamente il problema, il prossimo 21 maggio in municipio è previsto un ulteriore incontro. E rimanendo nella zona di Marchitella, il comitato di quartiere in una nota ha chiesto alla sindaco Angelo Fasulo l'allaccio delle docce pubbliche in vista dell'imminente stagione balneare collocate in viale Fontana Rossa. Le docce sono state realizzate grazie ai contributi versati dagli stessi residenti della zona, ma ancora ad oggi nessuna fornitura idrica è prevista perché non esiste un contatore.